Chiudiamo il discorso di ieri con alcune considerazioni legate al mondo dei procuratori. Il nostro ex amministratore delegato Gagliani oggi ha rilasciato un'intervista interessante al Corriere della Sera dove parla di calcio e dove dice anche quali sono i motivi della crisi finanziaria delle squadre di club. Botteghino sostanzialmente, tutto quello che ne concerne, gli sponsor che investono meno, anche in questo senso tra l'altro Mina sta facendo delle operazioni interessanti. Quello che però omette Gagliani è la questione dei procuratori, questione dei procuratori sollevata di recente solo dal Presidente del Barcellona al quale ha detto a bilancio mi sono ritrovato questi milioni di euro pagati ai procuratori, la cosa non è più sostenibile. Allora, perché completa il discorso di ieri? Perché la questione di Francesi molto probabilmente è legata alla questione dei procuratori, i procuratori che stanno assumendo un ruolo sempre più importante, essendo diventati praticamente i tenutari del cartellino dei giocatori, perché i giocatori non sono più di proprietà delle squadre, ormai mi pare evidente, visto che il giochetto di andare a zero quando si vuole cambiare aria e soprattutto quando si vuole cambiare aria per un certo motivo che vi dico adesso, mi pare che stia prendendo troppo piede. Oggi mi ha scritto un amico che si chiama Luca degli Innocenti, che è un ex agente della UEFA, e mi ha scritto un commento molto interessante dicendo che, a monte di tutto quello che sta accadendo con i procuratori, c'è un problema legato alla FIFA e poi a scendere tutte le varie federazioni locali. Il mancato intervento da parte di queste federazioni, da parte di queste organizzazioni, sulla questione dei procuratori, è un buco normativo molto importante. In molti di voi amici del canale mi avete scritto che Frenchesi andava venduto quest'anno per monetizzare, considerazione che potrebbe apparire giusta, ma secondo me manca di un fondamento, e cioè il fatto che per essere venduto quest'estate Frenchesi non dovrebbe avere, anzi non avrebbe dovuto avere, presumibilmente, facciamo non dovrebbe avere un accordo già con un'altra squadra. Cosa intendo dire? Intendo dire che sta diventando prassi comune a causa di questo buco normativo prendere un accordo che non si potrebbe con la futura società per arrivare a scadenza e quindi per potersi trasferire a parametro zero, salvo poi corrispondere al procuratore una commissione che sarà comunque inferiore rispetto al costo del cartellino, ma che consente al procuratore di fare un bel business e al giocatore di trasferirsi senza troppi problemi, dove li pare, in una società che gli garantisce evidentemente guadagni maggiori. Quindi non si poteva fare. Seconda questione, spero di essere stato chiaro, spero di essere stato chiaro. Seconda questione, che si aveva rinnovato, andava fatto firmare, a che si bisognava far firmare il rinnovo del contratto per un anno e poi, diciamo, venderlo. Sì, allora, oppure, anzi meglio, in molti mi hanno scritto a che si andava fatto firmare il rinnovo e poi venduto questa estate. Quasi stessa situazione. Intanzitutto non è che si può puntare una pistola alla tempia di che siede il suo procuratore e costringerlo a firmare. Se non ha firmato le condizioni del Milan e, soprattutto, se effettivamente ha un accordo già trovato con un'altra società, non firma, non si mette nella condizione di diventare oneroso per la squadra alla quale si è promesso e con la quale c'è un tacito accordo del tipo quello che vi ho spiegato prima. Io vengo, i soldi non li dai alla squadra di appartenenza, li dai al procuratore. Ovviamente non nella stessa misura, ma sufficienti per far contento il procuratore. Sono supposizioni, ma siccome la cosa si trascina e siccome abbiamo visto altre volte questa questione, e soprattutto sappiamo che tante società si sono messe di traverso rispetto al ruolo dei procuratori, è evidente che si è presentato, si presenta e si presenteranno situazioni di questo tipo fin tanto che a livello di organizzazioni del calcio non si metterà un freno a questa cosa perché ha ragione Tebas, il patrono del calcio spagnolo, a dire che il Paris Saint Germain rovina il calcio. Siamo tutti d'accordo che le inique regole della UEFA hanno lasciato delle falle e ci fermiamo qui con il racconto che permettono a certe squadre di fare un po' quello che gli pare. Politica in mezzo, affari economici e quant'altro. Ne abbiamo parlato. Se vi interessa c'è il video anche sul Qatar, sul Paris Saint Germain dove vi racconto alcune cose interessanti. però la questione non è solo questa, la questione sono anche i procuratori che stanno portando i calciatori ad essere di proprietà dei procuratori e non più appennaggio delle squadre. Ora, e chiudo, non serve ritornare come negli anni 70 dove la società era totalmente padrona del cartellino del calciatore, faceva di lui, disponeva di lui come meglio credeva. Però da là a qua ci sarà una via di mezzo, ad esempio, perché non facciamo che faccio una proposta, una sola, poi le altre me le fate voi, perché non facciamo che la commissione la paga metà il calciatore? Facciamo così, come quando compri una casa che paga metà l'agenzia sia chi vende sia chi compra. Facciamo così, il calciatore comincia a pagarsi il suo procuratore metà della commissione richiesta alla società per la trattativa.